Due stati a parlare di inquinamento del mare, sversamenti vari, polemiche, lotte e contestazioni, l'annuncio di nuovi lavori e poi il Movimento 5 Stelle scopre che quei lavori erano stati previsti nel 2011 con uno stanziamento di 20 milioni di euro destinati all'adeguamento del depuratore, finito poi con un'incompiuta. Oggi la notizia di 30 milioni di euro per realizzare un depuratore nuovo e poi la vicenda degli anni 90 di 30 miliardi di lire destinati di nuovo all'adeguamento. Questi i dati che compaiono nel report confezionato da Domenico Pettinari. Quelle opere iniziarono ma si fermarono, come ci ricorda l'anagrafe unica delle opere incompiute della regione Abruzzo, all'8,2% della realizzazione, poi eterna incompiuta. Oggi ci vengono a dire che servono 30 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo depuratore. Questo è follia secondo noi. Perché? Perché andrebbe riattivato il vecchio progetto e finanziamento dei 20 milioni di euro del 2011 e portato avanti la realizzazione delle opere che inspiegabilmente si sono fermate all'8,2%. E con i 30 milioni che oggi vogliono utilizzare per il depuratore di Pescar andrebbe fatta la cosa più importante, cioè la separazione delle acque bianche e delle acque nere per immettere quello che va immesso nel depuratore. Perché possiamo avere anche il depuratore più grande e più bello del mondo ma se ci buttiamo dentro tutto il depuratore non funzionerà mai bene. La richiesta ora da parte del consigliere dei 5 Stelle è quella di avere risposte chiare sulla fine dei fondi destinati all'incompiuta e soprattutto di valutare una differente gestione del caso depuratore. Voglio sapere dove sono andati a finire quei soldi, quei 20 milioni integrati e stanziati nel 2011 perché i lavori si sono fermati all'8,2% non sono andati più avanti perché tutto questo e perché oggi si fa ricorso a quei 30 milioni invece di riattivare quella opera che già c'è.